Sconcerto a Vallo della Lucania, dove questa mattina un uomo avrebbe ferito la moglie con un coltello. Si tratta di un noto professionista, il dottore Agnello Greco, 68 anni, originario di San Mauro Labruca, anestesista dell'ospedale San Luca, da poco inquiescenza. Sono poche le informazioni che trapelano in queste ore. Una lite scoppiata a Tarrai due coniugi nella loro abitazione, poco distante da Piazza Santa Caterina, nel centro di Vallo, e all'improvviso degenerata sarebbe spuntato un coltello. Ad avere la peggio la moglie, un'insegnante del Parmenide, originaria di Castelnuovo Cilento, che ha riportato ferite da arma da taglio, pare anche sul torace. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania, gli ordini del comandante Santepicchi e personale del 118, che ha provveduto a trasferire la donna al pronto soccorso dove le sono state suturate le ferite. La docente non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda sono in corso tutti gli accertamenti. La procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta da chiarire cosa abbia scatenato la lite, come siano state procurate le ferite e, in generale, la dinamica di questo episodio di violenza, scoppiato ancora una volta in un contesto familiare, come accade purtroppo sempre più di frequente. Il trambusto di questa mattina, per la presenza di ambulanze e forze dell'ordine lungo la strada dove abita la coppia e il diffondersi della notizia, ha sconvolto la tranquillità di Vallo della Lucania. In tanti hanno espresso incredulità per quanto accaduto, tra l'altro in una famiglia di professionisti conosciuta e rispettata.